Ben trovati amici TechDifferent, vi presentiamo oggi l'unboxing del mini jambox di Jawbone, la cassa audio. Andiamo ad aprire la confezione che è proprio nuova, ce l'hanno inviata proprio nuovissima, apriamo la plastica, questa la dobbiamo tagliare per forza, rompere così, vediamo che c'è l'adesivo qua sul lato, andiamo a toglierlo, ci dovrebbe essere anche dall'altro lato un altro adesivo. Andiamo a staccarlo, ok perfetto, qui troviamo la nostra cassa, vedete molto elegante, molto bella, molto elegante, sottile anche, andiamo a vedere nello scomparto sottostante cosa troviamo, troviamo il cavo USB, micro USB per la ricarica o per la connessione magari al PC, troviamo il jack audio maschio maschio per permettere di utilizzarlo anche non bluetooth ma col cavo appunto, ed infine troviamo questa manualistica qui sotto, immagino non ci sia nulla, infatti non viene via nulla, perfetto, direi che per questo unboxing è tutto, vi rimando alla nostra prossima recensione che faremo di questa cassa mini jump box di Jawbone. Un saluto a tutti, grazie per l'attenzione, ciao! Ciao!